Ma che cazzo te guardi? Salve a tutti, salve a tutti, bentornati in questo nuovo video, cazzo, sì, sì, siamo tornati in un nuovo video, un vlog, il vlog del romics, sì! Aia! Cazzo non ho fatto male davvero. È stato bello poter incontrare alcuni di voi, mi ha fatto un enorme piacere fare delle foto con voi, passare del tempo con voi e chiacchierare un po', sentire come stavate, come non stavate. Ma alla fine sti cazzo, nel senso, cioè, uno fa giusto così per dire, però poi che cazzo mi ha fatto piacere vedere anche tutti gli altri ragazzi con cui streamo, con cui condivido questa passione che è quella per i video, per gli streaming. In descrizione il follow al canale di Twitch, l'avete messo, eh? Twitch.tv slash Clapperone, mi raccomando, seguitemi nelle live. Penso di aver detto anche abbastanza e vi ricordo di lasciare un bel like e di seguirmi su Instagram cercando Clapperone. Trovate un sacco di belle foto che abbiamo fatto durante questo romics, godetevi il video e commentate. Oh ma, è ferma! No, devo salire a piedi! No! Cazzo, tutti gli anni mi porta sempre su. Sono indignato, sei indignato? No! No, non siamo indignati, di più! Ho trasformato i miei soldi in un pezzo di carta. Wow! Veloce, veloce! Che romics non si fa da solo! Mercom! Ah, sei mancato, cazzo! Ah... Ragazzi, stiamo andando a chiedere alla gente se hanno i pugnitori. Con Tommy, vediamo se hanno i pugnitori. Andiamo a creare il disagio a Roby! No, io cazzo! Cazzo, mi chiedo di te i pugnitori. Eh? Hai i pugnitori. I pugnitori. Pugnitori, se ce li hai. Eh, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Noi vorremmo perdere la nostra identità, ma voi, se impedite... Che schifo, che schifo. Che cazzo, scusate. Ma cazzo, se lo vendete, che disagio in polvere, eh? Guarda, è nell'aria. Controlla un po', magari ce l'hai in tasca. Se giubilate! Giubilation, cazzo! Ammesso. Allora, scusate. E dunque, c'è un problema. Non c'è abbastanza disagio qui. Creiamo un po' di disagio, per favore. Creati il disagio. Basta che inquadri qua. Create più disagio. In più! In più di disagio! È l'uncitello! Non lo so, questo è te passo. L'hai chiuso? Non l'ho ancora chiuso, lo vuoi chiudere tu. Sono! Bustami. Ancora va di moda, ma... Non c'è abbastanza. 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 Non me la fa la foto, non me la fa Non me la fa Niente ragazzi siamo tornati a casa Qui si vlog, non si vlog, qui si fanno le live su Instagram ragazzi Salutate le live di Instagram Ciao Saludos, saludos, saludos Il Romics oggi è stato bello, domani sarà bello anche domani Sono bello? Si sono bello Sei una meraviglia Saresti più bello se ti mettesi il labello Propaganda all'Isis Le bombe tu ce le hai Ragazzi è il secondo giorno di Romics Stiamo davanti ai Mast della Tust Mast della Tust La Tust Gaming Confabulano per avere il passo Vogliono il passo, vogliono Come confabulano Si entra o non si entra? Non si entra? Non si entra Non si entra Oh mio dio, clap è collassato Clap, sei collassato Alzati dai Ah, benissimo Rick, perfetto, grazie Clickbait migliore della storia Bene Che cazzo è quello? È un pelato Eschere, eschere Eschere Ah, sono distrutto Rick si è distrutto Sono distrutto Siamo distrutti È stato un bel Romics Siamo divertiti I pugni sono stati duri Molto duri Sono collassato a Romics Spero di rivedervi presto E torniamo a TV su YouTube A cazzo di loro No studio Olli Olli An Honor Vina E Torn down for what? Torn down for what? Just go And we're um Grazie a tutti